Musica L'unica partita ininfluente praticamente della giornata è quella tra Lecce e Pescara La vince il Lecce per 4-1 Pescara ha già la settimana in retrocesso in Serie C1 Tiribocchi che tra pochi giorni si sposa Il dodicesimo gol stagionale segna la rete l'1-0 Al trentatresimo arriva il raddoppio di Zanchetta su calcio di punizione Trentaseiesimo minuto la rete invece è quella di Vives Che scambia ancora con Tiribocchi E segna il gol 3-0 Un Pescara infarcito di giovani della primavera Che probabilmente l'anno prossimo giocheranno in prima squadra Nel campionato di C Pescara che incassa anche il gol dello 0-4 Lo segna Cavallo che oggi napoletano lui di tifo Festeggia anche la promozione della formazione di E di Reia Il gol nel secondo tempo sull'assist di Scappatici E di Mazzella all'esordio assoluto in Serie B Finisce 4-1 per il Lecce Un'epoca Un'epoca Iscriviti al corpo